I tanti problemi che affliggono le nostre città decretano il successo di ufficio reclami. La rubrica è attrivata sul sito di Telenuova all'indirizzo www.telenuova.tv che raccoglie i problemi delle cittadine dell'agro e dell'intera provincia di Salerno. Siamo nuovamente a Pagani, via Macinanti, la segnalazione arrivata dal signor Alfonso Lafemina. Un problema atavico quello di questa strada, ossia le tante buche, il degrado e l'abbandono. Ormai ci sono anche delle colonie di cani randaggi, mentre le buche si ingrossano a vista d'occhio ogni giorno, basta che ci sia qualche goccia di pioggia. Il comune temporeggia, cerca di tamponare con dell'asfalto, con della sabbia, ma la soluzione è talmente precaria e provvisoria che serve davvero a poco o nulla e i cittadini dunque scrivono all'ufficio reclami. La nostra emittente non può far altro che denunciare e evidenziare i problemi con la speranza che qualcuno dall'amministrazione comunale risponda con i fatti.